ciao ragazzi benvenuti in un nuovo giorno dal mio caffettuccio dal mio caffettuccio vabbè adesso lo posiamo un po volevo dirvi che ci stiamo preparando per uscire andiamo a fare delle piccole commissioni non so se mi riuscite a vedere oggi è così se mi riuscite a vedere oggi è così delle piccole commissioni pigiamone esagerato per chi fa un freddo cane allora volevo sapere vabbè andiamo anche dalla zia dalla zia grim e vabbè poi la vedrete un di me la farò conoscere e che dirvi se la volete conoscere potete andare sull'altro canale make up da favola claudio con e potete vedere la grim allora stavo dicendo vado a fare delle commissioni qua e poi ritorno oggi niente lavoro si lavora domani e vabbè la mia vita lavorativa è così oggi si domani no lo mani no potete sì